Quest'anno Confeduttura Mantova ha deciso di dedicare la propria presenza alla Bovimac parlando di agricoltura di precisione. Una delle definizioni più importanti e più diffuse di queste tecniche è fare la cosa nel momento giusto, nel posto giusto. Ci sono tecniche, tra cui quella che analizzeremo questa mattina della guida a posizionamento satellitare, che permettono all'azienda agricola di poter eseguire operazioni con una precisione e una definizione che fino a qualche anno fa era assolutamente impensabile. Possiamo parlare di semine a densità variabile, come anche di fertilizzazioni a rate o variabile, come possiamo raccogliere dati, come ad esempio la mappatura delle produzioni o conoscere in maniera precisa le caratteristiche del suolo attraverso le mappe dei suoli. Insomma, possiamo avere una serie di informazioni che ci permettono di prendere delle decisioni di tipo agronomico, di tipo anche proprio gestionale e di conoscere i costi di quello che l'azienda va a fare. È un modo nuovo, è un utilizzare tecniche nuove per fare cose che in realtà l'agricoltura ha sempre fatto, l'agricoltura ha sempre cercato di essere precisa. Ecco, diciamo che oggi ci sono gli strumenti per fare in modo che questo avvenga davvero in maniera importante e definita.